Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Io vi dico Se la vostra giustizia non supererà quella degli iscrivi e dei farisei non entrerete nel Regno dei Cieli Avete inteso che fu detto agli antichi Non ucciderai Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio Ma io vi dico Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio Avete inteso che fu detto Non commetterai adulterio Ma io vi dico Chiunque guarda una donna Per desiderarla Ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore Avete anche inteso che fu detto agli antichi Non giurerai falso Ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti Ma io vi dico Non giurate affatto Si è invece il vostro parlare Il più viene dal maligno Parola del Signore